Elementi semplicissimi e basilari, l'innovazione portuale oggi è un fatto, non c'è molto da aggiungere, molti porti si sono mossi in questo senso, stiamo lavorando molti anni a queste e in molti porti. Questi percorsi spesso hanno avuto obiettivi immediati apparentemente diversi ma appartengono a una matrice comune e hanno portato ad un evolversi sempre maggiore della cultura dei processi all'interno portuale. Questa cultura dei processi poi si è tradotta nella realizzazione di segmenti di digitalizzazione che sostanzialmente alla fine hanno prodotto informazione. Se ne è parlato stamattina in maniera ricorsiva, l'aumento dell'informazione e la disponibilità di questa quantità di dati. Quindi noi siamo qui e la pietra d'angolo ad oggi è la soluzione che è sempre più adottata nei porti, è il port community system. Acronimo che è al suo centro, a questa C che è la più importante, che è comunità. Laddove c'è una comunità forte esiste un port community forte, il port community system è diciamo uno strumento che a sua volta rafforza la comunità. Port community system che ha elementi sostanziali identificativi nella neutralità, nella trasparenza e nel tentativo di rendere più competitivo lo scalo e l'efficienza della movimentazione delle merci. Del cambiamento se ne è parlato in tutti i modi oggi e quindi il PCS è un elemento che cerca di affrontare e affiancare il cambiamento, di portarlo. Elementi semplicissimi e basilari. L'innovazione portuale oggi è un fatto, non c'è molto da aggiungere. Molti porti si sono mossi in questo senso, stiamo lavorando molti anni a queste e in molti porti. Questi percorsi spesso hanno avuto obiettivi immediati apparentemente diversi ma appartengono a una matrice comune e hanno portato ad un evolversi sempre maggiore della cultura dei processi all'interno portuale. Questa cultura dei processi poi si è tradotta nella realizzazione di segmenti di digitalizzazione che sostanzialmente alla fine hanno prodotto informazione. Se ne è parlato stamattina in maniera ricorsiva l'aumento dell'informazione e la disponibilità di questa quantità di dati. Quindi noi siamo qui e la pietra d'angolo ad oggi è la soluzione che è sempre più adottata nei porti, e il port community system. Acronimo che al centro ha questa C che è la più importante che è comunità. Laddove c'è una comunità forte esiste un port community forte, il port community system è uno strumento che a sua volta rafforza la comunità. Port community system che ha elementi sostanziali identificativi nella neutralità, nella trasparenza e nel tentativo di rendere più competitivo lo scalo e l'efficienza delle movimentazioni delle merci. Del cambiamento se ne è parlato in tutti i modi oggi e quindi il PCS è un elemento che cerca di affrontare e affiancare il cambiamento, di portarlo.